oggi l'ultimo giorno mi sto preparando per la partenza abbiamo già fatto le valigie e adesso prendiamo andiamo a humo rakatani dove c'è l'aeroporto e da la prendiamo l'aereo per bangkok e dopo veniamo da bangkok prendiamo l'aereo di gatto in italia confermata a dubai intanto vi faccio vedere per l'ultima volta la casa che l'amica della ciò ci ha messo a disposizione molto gentilmente visto che lei lavora in slovenia assieme alla sorella diciamo ecco qua questo ecco la casa piccolina una persona per due al massimo ecco qua e la guardate quanto riso guardate quanto riso avremmo vedere questa è la casa andiamo dentro dopo andiamo fuori guardiamo che c'è dentro c'è la televisione thailandese telegiornale tg qua c'è la ciò che si sta riposando saluta ecco qua guardate ecco il bagno la lavatrice la cucina piccolina con forma induzione portatile tanto ecco qua minimo indispensabile il ventilatore guardate il ventilatore come sono quante l'aria molto comodica sono attaccati a parete e adesso facciamo l'ultimo giro e se bisogno di mangiare banane qua insomma dai guarda qua guardate non so se avete visto queste sono banane vedete questa e quello deve essere papaglia che in italia costa una cifra ma qua stacco dall'albero che problemi ci sono ecco 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 le palme per mare questa è la campagna qua non avrei sarei anche rimasto se si è potuto ma devo tornare ecco guardate e dopo naturalmente il mitico scooter honda che mi hanno messo a disposizione la figlia la figlia di arpao eccolo qua tutto il suo splendore guardate honda ecco ecco eccolo qua e adesso che abbiamo finito mi saluto perché torno a finire quello che ho lasciato tutto il suo speso ciao